Eccoci qua, Jack, anche all'andata col Cordonier eri stato determinante nel risultato, sembrava forse così anche oggi, invece è finita 1-1, c'è un po' di amarezza? Non c'è un po' di amarezza, a livello tecnico, datico, abbiamo giocato bene, la fortuna, ma c'è un domenica abbiamo sempre la sfida e non riesci a concludere. Tu comunque anche oggi hai dato l'anima in campo, corri su tutti i palloni, perciò la condizione c'è, alla fine eri un po' stanco, forse anche per questo che il mister ha voluto fare un cambio? No, è normale, ma con la condizione del campo è anche facile, abbiamo dato tutto e ci sono anche cambi, chi è stato, chi è, allora... Quando avete sbagliato il rigore, quando Polesce ha sbagliato, cosa vi siete detto? No, c'è un po' di amarezza, c'è un po' di amarezza, c'è un po' di amarezza, c'è sbagliato il rigore al primo minuto, c'è fa un po' male, però succede... Il mister ha detto che i due rigoristi sono Fabro e Poles, tu che eri lì sul campo, hanno deciso al momento o era già stabilito che tirava Poles? No, questo non lo sapevo, sapevo chi tirava, però non so chi ha, ha giocato la palla. Allora aspettiamo il Conegliano domenica e magari la butti dentro di nuovo domenica, insomma. Speriamo. Ok, grazie, ciao.